Bentornati su MyFootballGersey! Questa che vedete è la terza maglia dell'Ajax per la stagione 2023-2024, in edizione FAN! Grazie per la visione! la maglia molto bella come al solito l'ajax fa veramente maglie straordinarie qui in alto vedete il costo molto basso molto conveniente tra l'altro e vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi ancora più conveniente se volete ordinare la maglia trovate i riferimenti qua sotto in descrizione andate a vedere quali splendide maglie vi attendono ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso a 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan grazie a tutti grazie a tutti